26 agosto il giorno della riflessione un momento importante per ricordare gli anni degli attentati così questa mattina il questore di Salerno Giancarlo Conticchio nel giorno del quarantesimo anniversario dell'eccidio del 26 agosto del 1982 nel corso della cerimonia di commemorazione degli agenti della polizia di stato Mario De Marco ed Antonio Bandiera e del caporale dell'esercito Antonio Palumbo che persero la vita a seguito dell'attentato terroristico delle Brigate Rosse in via Parisi oggi piazza vittime del terrorismo nel quartiere Torrione a Salerno alla presenza delle autorità istituzionali e dei familiari delle vittime questa mattina la cerimonia nel corso della quale sono stati ripercorsi i fatti con l'assalto ad un'autocolonna dell'ottantanovesimo battaglione fanteria Salerno che dalla caserma Cascino si recava la caserma Angelucci l'episodio nel quale sotto i colpi di un attentato terroristico eseguito dalle Brigate Rosse nel 1982 persero la vita i tre militari dopo un assalto al convoglio militare per portare via le armi il caporale Palumbo che aveva tentato di reagire fu ferito gravemente una pattuglia della squadra volante allertata dagli spari accorse immediatamente sul posto i quattro agenti intervenuti furono bersagliati da numerose raffiche di mitra l'agente della polizia di stato Antonio Bandiera alla guida dell'autorittura cadde mortalmente ferito mentre l'agente Mario De Marco trasportato all'ospedale di Napoli morì poi il 30 agosto uomini coraggiosi che vanno onorati come tanti altri appartenenti alle forze di polizia le forze armate caduti nell'adempimento del loro dovere stamani per la cerimonia che ha fermato nel silenzio il quartiere Torrione anche il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli il comandante provinciale dei carabinieri Gianluca Trombetti il prefetto di Salerno Francesco Russo il picchetto dei poliziotti e dei militari del reggimento cavalleggiari guide la moglie di Mario De Marco la vedova Maria Antonietta Giuliano il sindaco di San Gineto Michele Guardia comune di provenienza del poliziotto Antonio Bandiera il cappellano della polizia Don Giuseppe Greco importante oggi ricordare quella triste giornata che ha segnato e ha spezzato la vita di tre persone questo è a dimostrazione che lo stato non dimentica non dimentica le proprie vittime perché con la giornata di oggi vogliamo riportare alla memoria quei quegli eventi tragici che hanno segnato l'Italia l'Italia è venuta fuori con lotte democratiche con azioni di contrasto al terrorismo e con il sacrificio delle vittime non solo della polizia di stato dell'esercito ma le vittime che hanno riguardato l'intero mondo economico e giuridico dell'Italia oggi ricordiamo e onoriamo questa memoria di questi tre grandi e valorosi uomini dello stato ecco tutto Grazie.